Bentornati in Vox Populi, allora, eravamo rimasti con una bella fetta del Parlamento al capo della coalizione e adesso proviamo veramente a portare a casa il risultato, mancano solo 110 giorni all'elezione, abbiamo quasi tutta la nazione della nostra oramai no, niente di battiti, non voglio fare di battiti all'infinito a questo punto potremmo cominciare a pensare di infilarci anche qua sto vedendo se abbiamo qualche regione competitiva qui probabilmente perfetto mi sa che non arriveremo mai ad avere il quinto politico ok, qui abbiamo mollato il colpo quindi mettiamo di nuovo questo ok più o meno sui 100 mancano solo 95 giorni all'elezione adesso ci stanno veramente massacrando su tutti i fronti ok vediamo se riusciamo a riprendere questa regione anche se comunque non è tanto importante colorare le regioni quanto in realtà avere più elette all'interno delle regioni e logicamente tutte le regioni hanno un numero diverso di 6G qui ce ne sono solo 25, qui ben 63 quindi probabilmente sarebbe meglio cominciare a rinfilarci qua e cercare di recuperare qualcosa siamo finiti sotto i 100, stiamo perdendo qualcosina ottimamente ma siamo ancora a capo della coalizione che andrà al governo 72 giorni gli attacchi naturalmente arrivano da tutte le direzioni torniamo nella Greater Poland che è comunque uno stato da 40 qui al 41-42 siamo lì siamo assolutamente lì abbiamo avuto uno scandalo ok adesso abbiamo preso una mazzata un pochino più grossa ma sembra che comunque stiamo tenendo il colpo mancano solo 50 giorni alle lezioni a questo punto ok la messa l'abbiamo presa siamo tutti a lottarci questa mesavia Greater Poland qui probabilmente avremo bisogno di qualcuno recuperare qualcosina proviamo a mandare lei 40 giorni solo ci siamo oramai alle lezioni potrebbe essere cortissimo questo episodio se non c'è un ultimo dibattito facciamo sempre nella nostra salda posizione per il momento e ok abbiamo un bel dibattito nazionale cominciamo sull'economia il nostro post è assolutamente equilibrato working class middle aged quindi via questa di sicuro e cominciamo cominciamo a costruire siamo tutti centristi sull'economia ma è partita già una mezza guerra ci insultano succede di tutto siamo anche in coalizione tra l'altro io e te quindi non so perché mi stai insultando andiamo in contraddizione su questo in modo che qualcuno gli tiri giù l'argomento intero spero un disastro sostanzialmente è diventata veramente una lotta nel fango questo dibattito tutti che tirano giù gli argomenti degli altri e quindi io continuerei a tirar giù perché non ho la possibilità di mettere giù nulla però non ho più un contradiction 2 quindi usiamo un contradiction 2 lo bruciamo continuano gli insulti continuano la lotta nel fango e siamo tutti a zero in questa questa condizione ricominciamo forse a costruire adesso 1 e 1 ed era che in teoria siamo tutti d'accordo sull'economia ed è diventata come al solito se sia tutti d'accordo una gigantesta che lotta nel fango politica è diventata ecco sono riuscito a fare una battuta che è venuta malissimo intanto cominciano a distruggermi vediamo che è finita qua continuiamo con le contradiction a livello 2 nessuno ha un argomento quindi sostanzialmente possiamo bruciare queste carte sono praticamente tutte a zero deve essere stato uno dei dibattiti più eccezionali siamo arrivati a 8 e io devo continuare a bruciarmi queste perché tanto non ho altro da fare vediamo a questo punto finalmente posso costruire qualcosa è un po' tardi ma forse potremmo quasi arrivare arriviamo secondi arriviamo assolutamente secondi e a questo punto noi abbiamo guadagnato 200 punti contro i 300 del nostro competitor che poi è un alleato e quindi passiamo sul tema dell'immigrazione dove siamo in pari e gli altri sono un pochino più radicali middle aged perfetto support via questo via questo ok proviamo costruiamo il nostro argomento speriamo speriamo non vada in una lotta del fango anche questa stud speech contro chi ok contro uno dei grossi oppositori e qui abbiamo sostanzialmente costruito questo costruendo questa torre per loro per lui la può allargare un pochino nessuno lo ha attaccato naturalmente ma va bene così per il momento continuiamo con un altro argomento 2 e a questo punto partiamo con l'audience e facciamo questa bella struttura a questo punto siamo davanti intanto li blindano tutto io continuo con un argomento di livello 3 ok ok continuiamo con gli argomenti di livello 3 per il momento noi siamo a 19 contro 10 contro 6 contro 12 quindi siamo assolutamente primi continuano a blindarsi i nostri avversari ma oramai la situazione sembra buona possiamo attaccare un argomento di livello 3 qua in realtà attacchiamo qua perché anzi no, non attacchiamo continuiamo a strutturare per il momento questa struttura non è molto solida come dibattito tanto noi facciamo possiamo continuare, abbiamo un bel muro inattaccabile il nostro stile di dibattito questa sera almeno in questo secondo round e si è riusciti a parlare un po' meglio della sezione di economia intanto si sparano un po' tra di loro ma va bene così andiamo a buttare giù qua e li trituriamo, si triturano tra di loro gli argomenti viene giù tutto intanto lì a questo punto qua abbiamo un 9, qua abbiamo un 15 quindi va bene così possiamo continuare con un argomento 3 e abbiamo una struttura sostanzialmente solidissima che dovrebbe essere al primo posto e se di là non va giù tutto però forse è andato giù tutto a questo punto qua vediamo come siamo messi 433, 400, 100, 233 e siamo alla terza partita dove siamo tutti d'accordo e dobbiamo in qualche modo fare un dibattito upper class non ci interessa lo giriamo upper class non ci interessa e lo giriamo perfetto e quindi qui a chi è più convincente tutti della stessa idea che vogliamo una repubblica parlamentare qui potrebbe essere una lotta per la leadership se dovesse vincere questo dibattito il rischio che non sia più leader della coalizione c'è quindi forse dovremmo attaccarci i giovani i giovani non c'entrano con questo dibattito ma va bene lo stesso cominciamo a fare un minimo di struttura ci hanno distrutto il nostro argomento purtroppo la lotta è accesa anche da questo candidato che ha assolutamente perso e quindi dobbiamo cominciare a giocare sporco dobbiamo cominciare ad attaccare poi vediamo se arrivano due attacchi purtroppo noi non possiamo più costruire perché non abbiamo più basi e non so bene cosa riusciremo a fare ci teniamo tutte le contraddizioni e continuiamo con un e non possiamo dobbiamo purtroppo giocare una contradiction di livello 2 ma partono gli insulti bloccano di lì purtroppo di lì non di qua qua ricostruiscono ma vengono distrutti praticamente immediatamente ok ok e purtroppo siamo in partita non possiamo riuscire abbiamo perso assolutamente questo giro sul regime il che è malissimo possiamo solo continuare ad andare avanti scartando carte perché non abbiamo più nulla per costruire un argomento solido e vediamo cosa comporterà la perdita di questo dibattito nazionale così vicino alle elezioni di solito questo è quello che cambia le sorti della partita e dell'elezione vera e propria purtroppo noi siamo fuori gara a questo punto non possiamo neanche avvantaggiare e svantaggiare qualcuno non possiamo fare nulla con le carte che abbiamo una brutta serata questo dibattito ci attaccano per nulla ma va bene lo stesso 9 punti contro 6 contro 6 va bene almeno quello ma non riusciremo a passare a questo 403 rischiamo di beh siamo di sicuro almeno a secondi 500 siamo oh mio dio siamo ultimi siamo ultimi in pari merito il che ha distrutto completamente la nostra credibilità elettorale ha pochissimo tempo dalle elezioni ma cerchiamo di tenere botta mancano 30 giorni abbiamo perso la qualunque siamo ancora in teoria a capo della coalizione con 74 seggi ma ce ne sono solo 70 dietro di noi cioè allora una delle poche cose buone è che effettivamente questo questa guerra essendo stata interna alla coalizione ha solo ribaltato un po' chi comanda cioè il comando l'abbiamo tenuto ma abbiamo perso margine 70-71 e però comunque le elezioni le vinciamo noi la bellezza della della politica siamo a filo veramente un candidato a questo un seggio ci separa ci mollano anche i nostri vediamo se possiamo prendere qualcun altro giusto per questa questo rush finale ma sono tutti occupati naturalmente possiamo pagare questo 280 non è assolutamente della nostra parte cerchiamo di riprenderci la greater poland in qualche modo con due persone a parlare mancano solo 19 giorni e continuiamo a questo punto siamo 71 a 66 deve essere arrivata una ammazzatina ai nostri alleati mancano 13 12 giorni 11 giorni più o meno quello che è scritto è scritto 67 70 stiamo tenendo la collezione con i denti 7 default is collective sempre e siamo finiti all'opposizione purtroppo 63 65 temo non ci sia più nulla da fare 2 e siamo arrivati alle lezioni e invece siamo ritornati che cosa cardioparma 64 con 63 allora abbiamo avuto una net victories il 15 ottobre 2023 i polacchi sono andati gli elettori polacchi sono andati alle urne hanno portato la nostra coalizione al potere con il 14% del voto 64 seggi di 460 e 273 di coalizione abbiamo la maggioranza assoluta e siamo alla guida del nuovo governo nazionale e incredibilmente c'è andata di lusso quest'ultima fase è stata un massacro passati sostanzialmente da essere il primo partito in quasi tutte le regioni a dover lottare per tenere 64 seggi eravamo arrivati a 120 seggi a un certo punto durante la campagna elettorale ma logicamente più sali più ti tirano giù questo gioco devo dire che non è male come simulatore politico magari ci potrebbe essere un pochino più di scelta sulle collezioni sul gioco dei vari partiti qui è fatto tutto in automatico come avete visto e abbiamo effettivamente vinto bene e sarebbe secondo me più carino fare le elezioni e poi effettivamente cercare di terraforo un governo dalle coalizioni bene questo video questa serie si conclude qua spero vi sia piaciuta se vi è piaciuta lasciate un like se ancora non l'avete fatto naturalmente iscrivetevi al canale per altre serie video di strategia e simulazione per ora è tutto e alla prossima